La città comincia a respirare aria di giostra. Siamo in Piazza Grande e sono già iniziati i lavori per l'allestimento delle tribune, come potete vedere alle mie spalle. Presto verrà messa anche la lizza perché sabato si terrà il primo giorno di prove. I quartieri sono pronti a festeggiare, inizieranno la settimana giovedì sera. Invece il primo atto della manifestazione si terrà venerdì con le estrazioni delle carriere in Piazza della Libertà al Palazzo Comunale.